Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere venuti, così numerosi, fate un bellissimo pubblico onestamente visto da qui. Grazie, allora siamo qui a parlare questa sera in questo panel di mercato del lavoro, del lavoro dei giovani e delle politiche sociali. Abbiamo illustri ospiti a partire dalla professoressa Elsa Fornero. Poi con me ho anche Giovanni Mastro Buoni che è professore di economia del collegio Carro Alberto. E' Francesco Filippucci che sta finendo il suo PhD, credo no? Ha appena iniziato, eh vabbè lo finirà, ma poi... Un giovane, un giovane, un giovane. Finalmente un giovane, un rappresentante dei giovani, qua con noi a parlare di mercato del lavoro dei giovani. Allora io volevo introdurre questo argomento semplicemente ricordando un pochettino qual è la situazione del mercato del lavoro giovanile in Italia. Come tutti dovrebbero sapere il tasso di disoccupazione è ancora superiore al 30%, quindi altissimo. Il tasso di occupazione dei 15-24 ma anche dei 25-29 è fra i più bassi dell'Unione Europea, se non il più basso. Adesso non mi ricordo esattamente se è l'ultimo o il penultimo, quindi vabbè. Inutile è inutile star qui a fare troppi fronzoli, è una situazione abbastanza precaria e inaccettabile. A livello salariale, come sappiamo tutti, i salari d'ingresso sono bassissimi e tendono a evolversi nel tempo in maniera inaccettabile, nel senso che aumentano, si aumentano in maniera molto lenta. Cos'altro c'è da aggiungere a questa situazione? Ah sì, c'è anche da aggiungere che, come sapete, stiamo vivendo una fortissima fuga dei cervelli, nel senso che i giovani con più competenze hanno incentivo, purtroppo in questa situazione un pochettino stagnante, dei salari reali ad abbandonare l'Italia, dopo che si sono stati formati anche in prestigiosi università italiane, in molti casi, per andare all'estero a cercare migliori fortune, diciamo così. Quindi questi sono un pochettino i fatti statistici principali del mercato del lavoro giovanile e di fronte a questa situazione volevo anche ricordare che un pochettino le politiche sono state messe in campo in questi ultimi anni, principalmente in quest'ultimo anno, dal governo per cercare un pochettino di metterle un pochettino in ordine nella cornice di questa situazione e cercare un po' di vedere quali effetti hanno avuto sul mercato del lavoro giovanile, hanno aiutato i giovani, hanno peggiorato la situazione, quale altre cose si possono fare nel caso in cui siano state negative. Insomma la discussione seguirà un pochettino questo tipo di fremo. Allora ricordiamo che le politiche principali dal punto di vista del mercato del lavoro e sociali messe in campo dal governo sono quota 100 e il reddito di cittadinanza. Come sapete tutto quota 100 ha parzialmente il reintrodotto dei forti incentivi al pensionamento per le imprese che ne hanno subito fatto ovviamente utilizzo. Il governo ha venduto questa politica, o venduta nel senso, sì la venduta, dicendo che avrebbe favorito i giovani perché per ogni posto di lavoro liberato dai lavoratori anziani ci sarebbero stati addirittura in molte forme, addirittura tre lavoratori in più di giovani con la famosa formula della staffetta generazionale. Quindi questo dal punto di vista pensionistico. Il reddito cittadinanza è stata venduta come un aiuto per le fasce sociali più deboli e come sappiamo la povertà relativa ma anche assoluta purtroppo negli ultimi anni è cresciuta enormemente nelle fasce più giovani della popolazione e quindi negli intenti del governo doveva aiutare i giovani a supportare il loro reddito. Quindi questo è un pochettino per fare il quadro generale. Ora secondo me farei così, adesso donerei la parola alla professoressa Fornero che ci dona la sua idea sul quotacento, sugli effetti di quotacento. Quotacento ha aiutato i giovani, aiuterà i giovani, è una politica che ha effetti positivi per i giovani, ce lo spiegherà. Grazie. Sono arrivata in ritardo perché mi è entrato qualcosa in gola e ho fatto fatica a recuperare la voce. Ancora adesso è un po' così. Spero di riuscire a parlare e chiedo scusa per il ritardo. Chiedo scusa anche perché non risponderò a queste domande. Sono domande troppo facili, potrei dire subito no, non li aiuta, punto. Però io credo che sia importante partire da una considerazione un po' più generale. Perché è vero, io ho firmato in condizioni quasi di emergenza due riforme. La riforma della previdenza e la riforma del mercato del lavoro. Mi sono molto interrogata, da che ho terminato il mio ruolo al governo, mi sono molto interrogata sul perché queste riforme sono state prese così male. Una è stata accusata di tutto, l'altra è stata dismessa troppo in fretta. Anche se ci sono ancora molti elementi della riforma del mercato del lavoro che sono oggi ancora validi, sono oggi ancora in vigore. E quindi mi sono domandata perché c'è questo. E allora io penso che dobbiamo interrogarci. Stamattina ho anche assistito al dibattito molto bello che c'è stato tra Guiso, Bising, Thomas Manfredi, chi era il terzo? Non so, forse non c'è. Riccardo Puglisi. Ah, Riccardo, Riccardo Puglisi. Ecco sì, che dice sempre di essere più forneriano di Elsa Fornero. Ho assistito, sì, a questo bel dibattito e di nuovo ho visto che c'è un po' la tendenza a dire ciò che bisogna fare nelle circostanze specifiche. Però io credo che se quello che noi chiamiamo riformismo, che io credo sia un'idea qui molto condivisa il riformismo, se ci domandiamo perché il riformismo sostanzialmente ha fallito e invece il populismo ha colto molto favore, molti voti, dobbiamo prendere sul serio le ragioni che hanno portato il popolo a non sostenere le riforme, a interpretare le riforme come qualcosa che non va ad aiutare a creare benessere, ma va contro il popolo. E allora io penso che è su questo che mi piacerebbe, perché poi voglio... Parliamo della riforma del mercato del lavoro e poi vi farò anche delle domande. Ma la riforma del mercato del lavoro si colloca all'interno di un quadro, di un paese, il nostro paese, che ha bisogno di molte riforme. E allora che cos'è il riformismo? Guardate, nei libri, molti di voi credo hanno fatto economia, hanno studiato, sono professore di economia, dottorandi in economia. Nei libri di economia si parla quasi mai di riforme economiche, si parla di politiche economiche. E quando uno scrive un paper, scrive tutto il paper e poi dice nelle ultime cinque libre policy implications of this paper are, li metti lì così, no. Come se la policy fosse un atto esterno, calato da una conoscenza tecnica quasi superiore, che, messa nella società, produce i suoi effetti. Le riforme, se ci pensate, il riformismo, se ci pensate, è la traduzione politica dell'esigenza di applicare le politiche economiche che favoriscano, che so io, l'occupazione, o riducano la disoccupazione, o aumentino l'età pensionabile, e così via. Il riformismo, quindi, è già qualcosa di più della politica economica come fatto tecnico. È la riflessione e la traduzione politica di questo. E quali sono le caratteristiche del riformismo? Le dico, io non sono una scienziata politica, né pretendo di esserlo, però ho riflettuto su questi temi. Intanto il riformismo, diciamo che si appella a una strategia un po' lungimirante. Quindi dovrebbe essere il contrario del presentismo di cui invece si nutrono i populisti. Quindi guardi un po' lontano. E perché c'è questo? Perché nel riformismo si guarda lontano? O si dovrebbe guardare lontano? Per una semplice ragione. Ma perché nessuna riforma, credetemi, è a costo zero. E gli economisti lo sanno benissimo, che anche le riforme apparentemente a costo zero in realtà hanno delle implicazioni di costo, se non altro perché togli qualcosa a qualcuno, magari un privilegio, o lo induce a lavorare di più, pensiamo a, si dice sempre, ma la riforma della burocrazia non costa. Non è vero, costa a tutti i burocrati che non vogliono cambiare le loro abitudini, che non vogliono cambiare il modo in cui il loro lavoro è organizzato, non vogliono magari rinunciare a un tasso di assenteismo. Guardate, dico questo io, avendo fortemente criticato l'approccio di tutti quei politici che hanno usato espressioni come, l'ha usata Renzi questa, andremo contro la burocrazia con tutte le nostre forze. È sbagliato perché ci sono dei burocrati che sono funzionari di Stato, servitori dello Stato, che invece hanno un alto senso delle istituzioni, che alcuni uomini di governo attuale e passato neanche si sogna, ma neanche riescono a concepire. Quindi la riforma della burocrazia, che sembra a costo zero, in realtà ha dei costi. Quindi le riforme hanno sempre dei costi. Gli economisti hanno un concetto centrale nella loro testa, che è sempre il trade-off. Se prendi questo, rinunci a quest'altro. Ogni riforma è caratterizzata da un insieme di trade-off, di costi che magari non sono apparenti, ma che ci sono, sono pervasivi qualche volta. Ed è chiaro che le riforme che sono molto estese, come quella della previdenza, come quella del mercato del lavoro, hanno costi molto più elevati. Ma i costi sono nell'immediato. Perché si fanno le riforme? Perché vogliamo ottenere dei benefici. E i benefici sono per la società. Tipicamente, anche questo dobbiamo pensare, che le riforme non siano fatte per procurare, o almeno non sempre, non nella maggioranza dei casi, per procurare vantaggi alla classe che sta al governo. No, le riforme possono essere fatte male, ma tipicamente sono fatte per favorire il benessere della popolazione. Allora ecco qui, tu hai costi nell'immediato e attesa, speranza di benefici futuri. E questo è un concetto che le persone, il popolo di nuovo, non hanno colto, non colgono, ed è una di queste, diciamo, lacune di questi gap che ha favorito, che ha dato spazio e terreno al populismo. perché i populisti sono bravissimi a sfruttare i costi di breve, brevissimo termine delle riforme, attribuire quindi alle riforme soltanto gli effetti negativi del breve termine, dire che questo è colpa di qualcuno, di quelli che hanno fatto le riforme, di quelli che le hanno volute, che si tratti dell'Ocse, del Fondo Monetario, che spesso, anche qui, anche queste istituzioni internazionali, non è che sempre aiutano. Non aiutano sempre. Primo perché ogni volta che fanno un rapporto, un rapportino, una conferenza stampa, cosa dicono? In particolare a noi, ad altri paesi del Mediterraneo come noi, una sola cosa, dovete fare le riforme. Lo dicono anche in maniera un po' stucchevole adesso, francamente, anche perché uno le ha appena fatte e loro ti dicono di nuovo, dovete fare le riforme. Ma questi messaggi non arrivano alle persone, non arrivano al popolo. Il popolo vede nelle riforme soltanto il costo immediato. E quindi questo gap che c'è tra l'interpretazione corrente, popolare, delle riforme e l'interpretazione, invece, elitaria, quella dell'establishment, quella di chi sa e conosce le cose, questo gap è una prateria sconfinata dove è molto facile entrare e dire ecco, voi avete il problema della disoccupazione giovanile, beh, è colpa della Fornero che ha aumentato l'età pensionabile. Molto semplice. E' una triangolazione molto, persino banale, quella dei populisti. Perché? Perché tutti abbiamo problemi. Di volta in volta basta dire lei ha questi problemi, lui è quello che è responsabile, che sia vicino o lontano non importa, che sia Angela Merkel, l'immigrato, l'Unione Europea, il governo Monti, eccetera, eccetera, è responsabile. E io, quello che posso più o meno fare tutto, risolvo i problemi. Stamattina si parlava di linguaggio semplice, di narrazione semplice, ma noi non dobbiamo seguire i populisti in queste narrazioni. La sfida è proprio nell'accettare che il mondo è complesso, il mondo del lavoro è complesso, le trasformazioni demografiche sono complesse, il movimento delle popolazioni nel mondo è un fenomeno complesso, e la nostra sfida non è di far finta che non siano problemi complessi, ma di provare a raccontare queste complessità a chi ci ascolta. Io ho fatto di questo il mio impegno quotidiano. da circa un anno e mezzo, perché rispondendo al ministro Salvini dico sempre, indirettamente, io non l'ho mai voluto incontrare, non che lui sia così ansioso, intendiamoci, però no, no, ho chiesto diverse volte di fare dibattiti televisivi. Allora, io posso essere anche un po' ingenua, come politica sicuramente lo sono, perché non sono una politica, ma non voglio prestarmi a un gioco dove lui tira di box e io esprimo cosa, buonsenso, ragionevolezza, troppo facile, vuole vincere troppo facile, è sulla distanza che noi, che io, voi, lo sfidiamo, è un po' sulla distanza. Benissimo, cosa faccio io da un anno e mezzo? Vado, incontro le persone, perché non è necessario essere eletti per parlare col popolo, basta che il popolo ti inviti, allora si ti invitano anche in piccoli paesi, piccoli centri. Boldrin dice che sono un illuso, è vero, però se tu incontri tutte le persone, tante persone, più o meno tutti i giorni, alla fine ne incontri tante. E questo è un altro elemento distintivo, socialisti versus riformisti. I riformisti appaiono come tecnici, lontani, che si appoggiano alle analisi dell'Ocse, del fondo monetario, e chi più ne ha, più ne metta, mentre invece i populisti sono vicini, proprio una vicinanza fisica, parlarsi guardandosi negli occhi. Questa è una cosa che il riformismo deve accettare, perché se le riforme sono un processo, se le riforme sono qualcosa che implicano dei costi oggi, nella speranza, nell'attesa di benefici futuri, beh, è questo che bisogna far calare. E però, qui, di nuovo, la distanza tra l'establishment e il popolo ha favorito questa prateria sfruttabile, nella quale è relativamente facile ottenere consenso, ottenere dei voti. Allora, se questo è, anzi, voglio dire, ma voi la conoscete tutti, se questo è, c'è una frase di Juncker che rappresenta, in maniera chiarissima, questo divario, questo gap, tra i riformisti tipo establishment, che sa quello che bisogna fare, e invece il popolo. La frase di Juncker la conoscete tutti, la frase di Juncker dice noi, noi, sappiamo ciò che è necessario fare, quello che non sappiamo è come farci rieleggere una volta che l'abbiamo fatto. Vedete che questa è una frase, fra l'altro, molto brutta, molto criticabile. Perché? perché questo segna veramente la separazione tra il noi, establishment, classe dirigente, classe di governo, e il loro, i poveretti, i quali non capiscono, e quindi, se noi facciamo quello che serve, ma loro non lo capiscono, ci puniscono. Guardate che la frase è proprio questa. ma io dico, beh, se questo è, allora il rimedio è molto facile, se sei convinto delle tue ragioni di riformista, spiega le cose in maniera semplice, spiega le ragioni per cui devi fare una riforma delle pensioni, e magari per cui la riforma delle pensioni sarebbe stato meglio farla e non disfarla prima, senza arrivare sull'orlo del baratro. spiega le ragioni per le quali il fondo monetario ti dice che devi rendere flessibile il mercato del lavoro, ma al tempo stesso non devi precarizzare l'occupazione giovanile, che non è proprio una cosetta facile. Io vi posso fare tanti esempi di cose che ho cercato di inserire nella legge di riforma del mercato del lavoro per rendere il mercato al tempo stesso meno rigido e meno precario. Un equilibrio, una strada strettissima, una strada strettissima dove gli economisti sono pieni di ricette, ma è il fatto che le ricette funzionino nel mondo reale la cosa difficile è la vera sfida e portare le ricette tecniche a funzionare nella società, a vivere nella società che è la cosa estremamente difficile. E allora questo è il motivo che mi spinge a fare questo che io chiamo perché voi sapete adesso si usa il termine narrazione è diventato anche questo un termine abusato perché nessuno osa più dire spiego io spiego io non spiego per carità perché se dico io spiego voi vi alzate subito a dirmi e chi è lei per spiegare qualcosa a noi? È giustissimo oggi la reazione è di questo tipo quindi noi usiamo illustrare narrare che a me non piacciono io uso il termine dialogo civile civile in un doppio senso non è il dialogo all'interno della classe politica non è il dialogo solo tra esperti perché tanto gli esperti per definizione sanno anche se poi si scannano è il dialogo con la società civile ed è il dialogo civile anche nei modi di pacato non è quel tipo di come dire come si può dire quello che c'è in televisione sempre per non dire pollaio dice lui ecco quelle risse da pollaio che ci sono spesso dove i problemi vengono presi del tipo cosa farebbe lei per ridurre la disoccupazione giovanile ma mi raccomando risponda in due minuti perché poi abbiamo subito un altro tema un altro ospite non è così che si forma un parere favorevole al cambiamento allora io ho detto di riforme e aggiungo due cose uno che io amo definire le riforme in questo senso e vi assicuro che questo concetto passa bisogna farlo passare e passa le riforme io le definisco non sono credo neanche tanto originale investimenti sociali investimento tutti sanno che l'investimento implica la rinuncia a qualcosa oggi un consumo oggi per avere qualcosa di più domani questo lo sanno tutti anche i nonni che aiutano i nipoti con la loro pensione nipoti disoccupati questo è il primo concetto un investimento ma qui stiamo parlando di un investimento sociale quindi qualcosa che implica oggi un cambiamento per migliorare qualcosa nel nostro futuro e questo cambiamento non è che ce lo chiede la cancelliera Merkel non è che ce lo chiede l'Europa no questo cambiamento nasce dal fatto che noi siamo come tutti gli altri paesi immersi in trasformazioni strutturali chiamiamole sfide se volete di nuovo se ne è parlato stamattina che sono la sfida demografica la digitalizzazione la robotizzazione l'immigrazione l'invecchiamento tutte queste cose sono grandi sfide allora tu puoi stare lì cercare di stare fermo acquattato sperare che come succede con i grandi mutamenti ti passino sopra la testa e lasciano la tua esistenza mutata oppure puoi dire no qui cerchiamo di fronte a queste sfide di ridurre i costi e di aumentare magari le potenzialità diciamo di prendere i benefici che queste trasformazioni danno a questo servono le riforme ma qui arrivo a dire poi chiudo pensate alle riforme nostre io vi dico perché sono rimasta anche lì molto delusa io non rimpiango non ho rimpianti non bisogna avere rimpianti soprattutto nella vita uno deve sempre guardare avanti ma indietro però io ho creduto veramente nel 2011 che il paese fosse pronto a intraprendere una strada una strada nuova perché anche questo è stato detto stamattina non è che i nostri problemi arrivano al 2008 con la crisi no i nostri problemi datano da prima e non è che il populismo per noi sia una cosa del tutto nuova perché molte delle politiche democristiane erano politiche volte a tenere buona la società facendo debito e questo era una forma di populismo meno sfacciato forse meno ignorante meno anche cinico però erano politiche abbastanza populiste noi questo ce l'avevamo questo problema e poi non dimentichiamo l'altra cosa che noi abbiamo avuto sostanzialmente un ventennio in cui la politica del nostro paese quella che dovrebbe dare al paese il senso di direzione dove stai andando come vuole essere la tua presenza in Europa come affronti le sfide beh la nostra politica per vent'anni è stata concentrata sul problema Berlusconi sì Berlusconi no e questo è anche il grande difetto dell'opposizione che anziché dire vabbè adesso basta non mi importa parlare di Berlusconi io voglio parlare del paese si è ridotta purtroppo a parlare di Berlusconi dieci domande venticinque trentasei e basta facciamo le domande che riguardano il futuro del paese non quelle che riguardano qualcuno che vogliamo allora ecco i nostri problemi sono di lunga data sono problemi strutturali e il mercato del lavoro ci è immerso ma quante riforme abbiamo fatte quanti morti noi abbiamo avuto per cambiare il mercato del lavoro non dimenticatelo perché oggi è facile molti di voi sono giovani e non le ricordano queste cose ma noi abbiamo avuto la gente ammazzata perché voleva cambiare le regole del mercato del lavoro allora io nel 2011 ho pensato forse il paese è pronto forse il paese è pronto ad affrontare affrontare senza che nessuno sia sicuro di avere le chiavi per risolvere i problemi in tasca ma ad affrontare una strada nuova intraprendere una strada nuova che non è caratterizzata dalle riforme perché le riforme sono degli strumenti ma è quella direzione di cambiamento e lì in realtà forse questa era un'illusione perché la resistenza al cambiamento positivo all'investimento sociale era molto più diffusa molto più radicata di quanto in realtà io forse col mio carico di illusione e di ingenuità non avessi pensato e in effetti quello che è successo dopo perché sì possono accusare anche me di avere di essere stata responsabile di aver spianato in un certo senso la strada ai populisti ma io lo rifiuto questo e dico noi abbiamo cercato di imboccare qualcosa chi è che ha rappresentato quelle riforme del lavoro delle pensioni come austerità pura non come qualcosa che costruisce contribuisce a costruire il tuo domani un po' migliore non qualcosa che parlo della riforma delle pensioni quando io ne vado a parlare con le persone dico sempre che quella riforma è stata un modo per affrontare il grave squilibrio tra generazioni che noi avevamo concentrato sul sistema previdenziale e le persone un po' lo capiscono questo quando tu gli racconti che lì c'è un contratto tra generazioni e che su quello ci vorrebbe la lungimiranza per non caricare tutto sui giovani bene se tutto questo discorso che è difficile ma che contiene qualche elemento positivo e costruttivo se tu tutto questo lo rappresenti come austerità senza una finalizzazione positiva o addirittura con una finalizzazione negativa perché è l'austerità fatta per salvare le banche tedesche allora spiegatemi ma chi mai potrebbe volere delle riforme in queste condizioni ma questo è quello che la nostra comunicazione non siamo stati bravi noi vero certo era difficile per un governo tecnico avere il canale perché il canale di comunicazione con i cittadini sono i partiti e noi i partiti non li avevamo io dico sempre come constatazione non come lamentela che nell'estate 2012 alle feste dell'unità che si sono fatte in tutta Italia tutti i ministri del governo sono stati invitati tranne Elsa Fornero e mi dicevano per ragione di sicurezza e dico abbiate almeno la decenza di usare un'altra scusa perché alla mia sicurezza provvediamo il problema è parlare con le persone e questo è un rimprovero che io faccio al PD il rimprovero di non avere avuto il coraggio e si tratta di coraggio di parlare e di dire noi quelle riforme le abbiamo approvate perché crediamo sì sì sono malfatte ma le metteremo a posto ma crediamo che quella sia la direzione per il paese e invece se tu getti il sasso poi nascondi la mano dici guarda che però l'ha gettato lui lui è uno che è un tecnico pieno di errori non capisce la politica come si fa a costruire un percorso di riforme e allora uno può anche parlare del cambiamento la quota 100 favorisce l'occupazione no chiaramente l'abbiamo vista tutti io ho incontrato diverse occasioni gli HR people quelli che fanno relazioni umane all'interno dell'impresa beh queste persone all'inizio con la riforma hanno avuto anche loro un po' di shock ma perché perché in Italia si è sempre detto hai un problema di occupazione lei fa il manager del personale ha un problema di occupazione vediamo di trovare un canale attraverso cui queste persone le mandiamo in pensione presto e quindi risolvevamo il suo problema risolvevamo il problema dei lavoratori che magari vogliono andare via prima e lasciavamo il problema agli altri a quelli che verranno dopo senza neanche dirglielo o senza neanche interpellarli adesso fanno quota loro mi hanno detto beh noi ci abbiamo messo un po' di tempo a cercare di riorganizzare il personale anche dando contenuti veri a quello che si chiama invecchiamento attivo tutti ne parlano sapete ma cos'è l'invecchiamento attivo non è far lavorare le persone non più giovani che però hanno una capacità di lavoro bene queste persone manager del personale si erano organizzati e adesso mi dicevano adesso ci è arrivato capo e collo di nuovo quota 100 ed è chiaro che quelli che hanno pensato già ma poi cosa succede io ho molte persone che mi scrivono e mi dicono io starei magari ancora due anni ma poi non succederà che un altro governo interviene persino con norme peggiori delle sue peggiori delle sue e quindi chiaro che se tu hai una finestra di uscita dici io esco magari lavoro in nero magari mi faccio dare una consulenza a seconda della posizione però non è che con questo l'altro il datore di lavoro assume qualcuno un giovane che sostituisce il lavoratore non giovane che se ne va quindi ma tutto questo sono dettagli all'interno di un percorso e il percorso è il percorso di riforme di cambiamento noi adesso abbiamo il governo del cambiamento ma qual è il cambiamento? il cambiamento è avere lo sguardo rivolto al passato questa quota 100 è stata presentata come la liberazione dei lavoratori dalla prigione nella quale li aveva messi la cattiva Elsa Fornero ma vi pare un linguaggio degno di un governo? me non pare non solo ma pensateci l'Inps vive di contributi l'Inps dovrebbe favorire il lavoro ripeto teniamo sempre fuori le persone che hanno problemi particolari di lavoro per salute per difficoltà insomma questo si può risolvere non ci doveva neanche non occorrevano cinque anni per cominciare a risolverlo ma questo è un discorso diverso che ha a che fare col cinismo della politica che qualche volta usa certe cose bene allora tu dici adesso ho perso il filo anch'io stamattina posso posso adesso si inserisce mi inserisco io voglio soltanto dire no io voglio solo dire questo che quando tu hai a che fare con delle riforme di questo tipo la cosa importante è che siano comunicate che siano comunicate bene e mi è venuto in mente la cosa che devo dire l'Inps che vive di contributi fa pubblicità a quota 100 ma voi lo sapete che l'Inps prende contributi dai lavoratori per pagare le pensioni ai pensionati e che i contributi dai lavoratori non sono sufficienti per cui bisogna prendere dalla tassazione generale oppure fare debito perché questi sono gli unici modi in cui si possono finanziare le pensioni e l'Inps fa pubblicità a quota 100 questo è il paradosso abbiamo per tanto tempo ce l'hanno detto tutti questi signori bisogna che aumenti il tasso di occupazione nell'età anziana non è vero che ci dicevate sempre così una volta che era aumentato e che non era sostituto del lavoro giovanile e no adesso bisogna tornare indietro e capite che con questo qui chiudo veramente solo dicendo ma magari ne parlerà Giovanni che in economia non c'è nessuna evidenza che il lavoro la lamp of labor fallacy che il lavoro sia una quantità fissa che occorra mandare in pensione qualcuno per far entrare qualcun altro aggiungo essendo stata anche ministro delle pari opportunità che questa è sempre stata l'argomentazione usata in Italia nei confronti del lavoro delle donne che va bene solo se non sottrae lavoro ai maschi e quindi adesso viene usato nei confronti dei giovani per cui bisogna mandare via uno non c'è nessuna evidenza e invece quello che sappiamo è che dove c'è un mercato del lavoro che funziona bene c'è lavoro per i giovani per le donne e per i lavoratori anziani ma il nostro problema è far funzionare bene il mercato del lavoro e non cominciare dalla coda cioè dalle pensioni e per far funzionare bene il mercato del lavoro le riforme fatte come atti del Parlamento non bastano perché noi abbiamo avuto anche delle buone riforme che hanno introdotto flessibilità che hanno tolto rigidità la nostra modifica dell'articolo 18 contro cui i sindacati si sono scagliati che è stata poi superata da Renzi per cui i sindacati tutto sommato sono contenti sarebbero contenti a questo punto di tenersi la nostra ebbene quella modifica era fatta per togliere rigidità ma bisogna che tutto questo si traduca in cambiamenti nella nostra mentalità cambiamenti nei nostri comportamenti cambiamenti nella nostra ottica e visione non solo del nostro futuro ma anche del futuro di tutta la società e la strada è lunga vabbè lo interpreto come un segno di affetto e vi ringrazio ringraziamo la professoressa Forner io la ringrazio personalmente perché ha ricordato la Lamp of Labor Fallacy io la spiego spesso e volentieri nel canale di Michele Boldrin su Youtube seguitelo se siete qua probabilmente lo conoscete questo canale c'è chi va giustamente a incontrare le persone nei piccoli nei piccoli paesi ed è giustissimo c'è anche chi sperimenta canali diversi e credo che questa iniziativa è partita appunto tramite queste nuove tecnologie ci sono professionisti che si sono messi in gioco cercando di parlare con le persone di economia in una maniera semplice e cercare di spiegare appunto i problemi complessi che la professoressa Fornero ci ricordava quindi assolutamente la ringraziamo visto che ha parlato di quota 100 in maniera direi esaustiva passerei all'altro argomento che era quello appunto del reddito cittadinanza e credo che Giovanni Mastrobuoni abbia un paio di slides da buono nerd economista da mostrarci non fanno mai male non fanno mai male perfetto e allora diciamo il mio lavoro è ricerca economica in ambito di economia del crimine ogni tanto mi occupo anche di mercati del lavoro e qualche giorno fa forse qualche mese fa quando si parlava del reddito di cittadinanza quando doveva ancora essere cioè doveva ancora passare il decreto mi è stato chiesto di fare un breve studio per degli amici diciamo e funziona perfetto che scopo quindi parlerò di quello parlerò soprattutto del reddito di cittadinanza cercherò di agganciarmi al discorso dell'informare per capire che cosa sta facendo questo governo e cosa invece andrebbe fatto cosa dovrebbe fare secondo le parole di Di Maio il reddito di cittadinanza dice lotta alla povertà in quello devo dire sono bravissimi nel senso che è come dire di no se tu regali 780 regali insomma se dai 780 euro al mese a una persona sicuramente quella persona sarà meglio se prima aveva meno la seconda è incentivare il lavoro con un meccanismo complicatissimo però anche lì sono stati bravi a raccontare al popolo diciamo che quella è la strategia quello è il meccanismo perché hanno avuto successo perché effettivamente c'è un problema di povertà se noi guardiamo la distribuzione della povertà in Europa e qui le zone quelle più scure sono le zone più povere vediamo che effettivamente nel sud Italia le cose non vanno benissimo e si parla di una povertà di famiglie che fanno fatica a raggiungere la fine del mese nell'ordine di una famiglia ogni quattro quindi sicuramente il problema c'era e un merito che va dato a questo governo è il fatto di comunque aver discusso di questo problema di averlo affrontato che cosa come numeri siamo intorno ai quasi due milioni di famiglie circa cinque milioni di individui abbiamo sentito l'Istat ci dice che la soglia al di sotto del quale si è poveri varia da regioni del nord alle regioni del sud per il semplice fatto che la vita costa meno al sud rispetto al nord e quello poi nel senso ne parlerò nuovamente più avanti perché come sappiamo il reddito di cittadinanza in realtà non ne tiene conto l'altra cosa molto interessante è guardare la distribuzione per età di chi è povero in Italia e forse lo si sa poco e dovremmo ripeterlo in continuazione sono i giovani a essere poveri in questo paese sono tre volte più poveri nel senso hanno tre volte la probabilità di essere poveri rispetto a chi è invece in età di pensione quindi a maggior ragione bisognerebbe pensare delle politiche rivolte ai giovani non insomma quota 100 allora questo per quanto riguarda la povertà per quanto riguarda il lavoro è facile fare un confronto di quello che avviene in Italia rispetto a quello che avviene nel resto d'Europa la cosa che a me piace fare è guardare i tassi di occupazione più che di disoccupazione perché quelli ci dicono un po' qual è la partecipazione al lavoro e quello che si si osserva nei dati è vabbè come sappiamo il divario tra nord e sud ma anche in generale un tasso di occupazione che è molto inferiore rispetto all'Europa si parla di circa 13 punti percentuali se poi guardiamo la differenza tra nord e sud queste differenze mettono veramente paura qui se dividiamo per il sud i tassi di occupazione tra uomini e donne quello che si vede è che solo un terzo delle donne nel sud Italia lavora e quindi è lì che dobbiamo in qualche modo incidere quota 100 secondo me quando si parla di quota 100 quando si parla di riforma Fornero bisognerebbe subito mostrare questo grafico perché mette veramente paura questo è diciamo il tasso di dipendenza cioè il rapporto che c'è tra la popolazione sopra i 65 anni rapportato alla popolazione in età lavorativa guardate dov'è l'Italia ora ditemi voi con un grafico del genere come si possa pensare di fare il quota 100 allora per fortuna sono state fatte delle riforme nel senso importanti tra cui la riforma di Elsa e questo è il motivo per il quale diciamo la spesa per pensioni non aumenta diciamo di pari passo con diciamo l'aumento del tasso di dipendenza il motivo è aver fatto delle riforme se non avessimo fatto quelle riforme la riforma Fornero e le riforme precedenti saremmo probabilmente già con insomma i documenti in tribunale quindi quali sono le priorità combattere la povertà sicuramente di chi? delle famiglie con figli dove? soprattutto al sud aumentare il tasso di disoccupazione dei giovani e degli anziani e soprattutto di nuovo delle donne e allora la domanda è è il reddito di cittadinanza lo strumento giusto per fare questa cosa c'è stato pochissimo dibattito su questo secondo me e quindi io mi sono messo lì un paio di giorni quindi senza essere pagato da nessuno a differenza di alcuni che sono oggi in posizioni molto importanti governative e mi sono letto forse uno dei pochi mi sono letto lo studio di Tridico che diciamo ha dato il via al reddito di cittadinanza uno studio nel quale lui usa dati a livelli aggregati di paese per far vedere che c'è una correlazione positiva molto forte tra tassi di occupazione e spesa nel welfare e argomenta che quindi spendere di più in welfare aumenta l'occupazione e dice in questo studio che introducendo il reddito di cittadinanza noi otterremo un aumento di 6 punti percentuali al tasso di occupazione quindi dimezzando il gap che c'è tra noi e il resto d'Europa favole perché il motivo per il quale c'è quella correlazione positiva è semplicemente che chi ha più occupazione quindi più reddito può permettersi un welfare più generoso quindi è quello che in economia chiamiamo la reverse causality è perché io mi aspetto pochi effetti sull'occupazione se non effetti contrari quindi una riduzione del tasso di occupazione perché se uno va a vedere come funziona il reddito di cittadinanza scopre che ha introduce dei disincentivi al lavoro questo perché perché se uno parte con un reddito nullo e lavora quei soldi che guadagna li deve dare allo Stato allora ditemi voi nel senso tra la scelta lavoro e prendo 780 euro oppure non lavoro e prendo 780 euro voi cosa fareste noi solitamente insegniamo che il lavoro non è una cosa proprio tra le più belle da fare e quindi mi aspetto effetti negativi sull'occupazione per cui chi prima magari lavorava in part time guadagnando 400 euro preferisce il reddito di cittadinanza e si porta a casa anche qualcosa in più quindi questo per quanto riguarda l'incentivo al lavoro per quanto riguarda la povertà ci sono vari problemi uno è il fatto che non tiene conto del costo della vita e quindi ha un effetto molto maggiore al sud rispetto al nord e l'altro non ne ho neanche parlato ma non utilizza le scale di equivalenza che utilizza l'Istat e quindi non aiuta le famiglie con figli che sono proprio quelle famiglie che hanno difficoltà a raggiungere la fine del mese queste sono le aliquote marginali qui un piccolo aneddoto quando ho fatto queste analisi ho scoperto che inizialmente le aliquote marginali erano queste qui per cui se tu guadagnavi i primi euro dovevi allo Stato più di quell'euro che guadagnavi cioè tu ne guadagnavi uno e ne davi allo Stato un euro e cinquanta e quindi creava questa trappola diciamo del lavoro adesso la tassazione è solo del cento per cento diciamo solo allora quali sono le alternative al reddito di cittadinanza e di questo non si è parlato il credito di imposta è utilizzato negli Stati Uniti si chiama Earned Income Tax Credit è un incentivo a lavorare di più nel senso che aiuta le famiglie che hanno redditi bassi sussidiando diciamo le prime ore di lavoro i primi euro guadagnati viene utilizzato negli Stati Uniti dove è in assoluto diciamo la politica più importante di lotta alla povertà è recentemente stata introdotta anche in Francia è stata introdotta in Svezia qui non se ne è neanche parlato ho fatto da nerd quali sono due calcoli queste sono le aliquide marginali sono tutte inferiori al 100% sono alcune negative quindi lì c'è il sussidio c'è l'incentivo a lavorare ancora di più se uno fa due calcoli che io ho fatto nel senso con pochissimi strumenti ci ho messo due giorni quello che scopre è che si riesce a spendere meno ottenendo un reddito maggiore e combattendo la povertà ancora di più di quello che fa il reddito di cittadinanza eppure non c'è stata nessuna discussione su questo grazie 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 Giovanni io posso confermare tutti questi dati sono corretti al 100% li hanno fatti anche i miei colleghi quindi sono uguali posso dire hai fatto un ottimo lavoro adesso passo la parola a Francesco che invece ci parlerà di cosa ci parli Francesco allora io da bravo studente faccio il riassuntone faccio una schematizzazione prima del dibattito prima dell'esame così andiamo preparati se mi mettono le slide provo appunto più che a schematizzare a dare veramente quella che è my take su quello che è che sono i problemi del mercato del lavoro di oggi e questo non perché appunto abbiamo un esame ma perché penso sia utile per poi porvi una grossa domanda che a noi giovani che abbiamo tutta la vita davanti per citare il titolo di un film ci interessa particolarmente che è cosa fare Elsa Fornero ne ha già parlato un pochettino dello spirito che dovremmo avere nell'affrontare i prossimi anni mi piacerebbe avere proprio ancora discussioni su questo punto e anche misure precise da parte vostra che siete sicuramente più preparati di me per nello spiegare quella che è la situazione del mercato del lavoro attuale partiamo dall'inquadrare il problema in un grafico che se seguite il canale di Boldrin Manfredi Cotagnone De Blasi spero conosciate mi sorprende che Thomas non l'abbia scritto su tutti i muri di questo evento ancora che è quello della produttività del lavoro italiana contro in realtà qualsiasi altro paese OXE o del mondo sviluppato la produttività del lavoro italiana si è piantata è cresciuta molto meno dei paesi comparabili a partire dagli anni 80 in poi si è piantata completamente da metà anni 90 nel 2000 era un livello praticamente identico a quello attuale se non sbaglio 100 contro 101 virgola qualcosa partendo da questo problema che la produttività e quando io parlo di produttività ai miei amici colleghi che non hanno studiato economia perché in questo paese non si studia economia se non fai economia all'università pensano subito a quello che si studia quando si studia la rivoluzione dell'industria alla scuola alla catena di montaggio a questa sorta di brutto mostro per cui siamo costretti a lavorare più tempo e con più sofferenza una brutta parola la produttività in realtà la produttività non significa nient'altro che svegliarsi la mattina e imparare a fare meglio il proprio lavoro cosa che evidentemente da questo grafico abbiamo smesso di fare perché e qua arriviamo allo schemone con Tortuga abbiamo provato a mettere a fuoco due grossi gruppi di problemi diciamo concetti che sono dei problemi il primo del mercato del lavoro italiano il primo sono dei problemi di coordinazione ne ha parlato un po' prima la professoressa Fornero io penso che c'era per esempio un giornalista che diceva lui quasi con ottimismo che vede un futuro relativamente buono per gli italiani ma non per l'Italia lui appunto questa cosa diceva con ottimismo io trovo sia la certificazione del nostro problema di coordinazione del fatto che il nostro mercato del lavoro non riesce a valorizzare il valore aggiunto che è in ognuno di noi non riesce le nostre istituzioni intese in senso lato quindi non solo le istituzioni pubbliche ma anche le istituzioni le organizzazioni privati le aziende la cultura le norme sociali non riesce a mettere in comune quelle che sono le nostre competenze e quindi come ha detto Thomas prima spesso ci se ne va spesso si resta emarginati e un problema di coordinazione che non è stato menzionato e che invece penso sia importante anche perché insomma è il mio ambito di ricerca e ci tengo particolarmente a menzionarlo è quello dell'investimento in formazione noi in Italia non spendiamo in formazione quanto gli altri partner europei abbiamo dei livelli di competenze nel mercato del lavoro che come potete vedere ho messo alcuni grafici ma ci spenderò poco tempo sulla sinistra sono la procedura di popolazione su dati OX del 2017 con educazione terziaria per colonnina blu le persone più giovani 25-34 anni colonnina rossa le persone più anziane quindi quelle che hanno formato le loro competenze nel nostro sistema in cui ti formi all'inizio della tua carriera e poi mai più le hanno formate anni fa siamo comunque i più bassi in entrambi i casi è interessante vedere la Francia che ha investito massivamente in formazione negli ultimi 20 anni in cui proprio nel dibattito pubblico oggi vivendo là vedo e sono sorpreso di questa cosa come si parla di formazione in tv in Italia se ne parla forse quando si parla di riforme della scuola di stabilizzazioni del personale scolastico travestite dalle riforme della scuola vediamo come la Francia in realtà è riuscita a passare da un livello di formazione delle generazioni più anziane basso relativamente basso più simile a quello che era il nostro a un livello di formazione più alto in un contesto in cui in realtà il mercato sappiamo che rimunera sempre di più le capacità le skill dei lavoratori le rimunera sempre di più e nel resto del mondo ma in Italia anche il mercato come istituzione sembra non dare troppa importanza alle skills come vediamo siamo il quart'ultimo paese in questa classifica paper di author mi sembra per cui tornando al nostro schemone poi potrei andare avanti a lungo non lo faccio perché Thomas è più bravo di me a postare grafici su beverage curve skill mismatch andateci soprattutto chi è della mia età andiamo a vedere come siamo messi qual è il problema di coordinazione del nostro mercato del lavoro perché non riusciamo noi giovani le aziende chi fornisce noi la formazione a metterci d'accordo su come fare per migliorare il modo in cui passiamo la nostra giornata e il modo in cui contribuiamo alla società ossia il lavoro la seconda categoria di problemi e qui diventa un po' più dura diciamo stanarle sono le cosiddette rendite quelle che gli economisti chiamano rendite ne abbiamo parlato parecchio abbiamo parlato di pensioni per definizione una rendita abbiamo parlato di mercato del lavoro duale quindi quello che insomma la professoressa Fornero ma altre prima di lei hanno provato a scardinare che tutt'oggi in realtà persiste anche per gli errori che sono stati stati fatti in un ultimo insomma la pezza che si è dovuta mettere sul decreto Poletti che continuava a incentivare il precariato pezza che appunto in una torta che non cresce ha finito in realtà per diminuire l'occupazione ma questo è purtroppo la realtà nel momento in cui siamo un paese appunto con la produttività del lavoro che non cresce secondo punto quelle che noi per coniare un termine chiamiamo safety rents invece che safety nets non avevamo fino a qualche anno fa un sistema di assicurazione per l'impiego universale è stato introdotto solo nel 2014 prima scusi dalle riforme della professoressa Fornero 2012 verissimo sembra la storia di quando in Europa la riforma delle pensioni era elogiata era la riforma Monti in Italia quando era era sempre la riforma Fornero adesso basta l'aspi l'ho inventata io Renzi nel suo tentativo di cambiare tutto l'ha chiamata naspi e ci ha messo qualche soldo in più questo è vero però poteva lasciarla così perché era appena nata e che cambi subito il nome aspi voi sapete l'acronimo scusi l'acronimo sapete cosa vuol dire bravo assicurazione sociale sociale per l'impiego vuol dire rischio di perdita di lavoro di non trovare un'occupazione e cosa fa lo Stato perché lo Stato non sono le generali o allianze ma è lo Stato che dà un sussidio e attiva le politiche fatte per aumentare l'occupabilità e la probabilità di trovare un'occupazione chiedo scusa però questo è proprio sacro santo scusa tra l'altro tra l'altro pronto a casa mia c'ho un negozio che si chiama Naspi si vende aspirapolveri benissimo vende aspirapolveri quindi fate voi la connessione Aspi insomma molto meglio Sì non so se per il nome infelice o per ma non se appunto siamo finiti a parlare per lungo tempo sia in Accademia che nel dibattito pubblico di articolo 18 di protezione per l'impiego mentre di assicurazione sociale non si è parlato e invece appunto è un passo avanti perché il punto era siamo passati da un sistema in cui appunto l'unica tutela nel mercato e non dal mercato l'idea di nuovo l'idea di rendita e noi si entra in un contratto e si resta lì invece mentre prima non c'era neanche una tutela nel mercato c'era stata introdotta prima c'erano queste sorte di rendite assistenziali con incerti perversi la cassa integrazione i vari provvedimenti ad hoc adottati dai vari governi questo per dire che appunto anche nella maniera in cui noi strutturavamo la carriera per anni abbiamo strutturato la carriera dei lavoratori abbiamo avuto in testa il concetto di lavoro come rendita per certi versi terzo punto le pensioni ne abbiamo parlato ampiamente non continuerò però vorrei anche capire visti questi grafici alquanto spaventosi quello a sinistra è quello che il fondo monetario chiama il pension debt ossia quanto è aumentata la spesa per pensioni nel tempo e quindi quanto i lavoratori di domani dovranno pagare in più per sostenerla a destra c'è la brillante risposta del governo del cambiamento che è aumentare ulteriormente questa curva di aumento della spesa seppur potete vedere anche che è un po' un piccolo tra virgolette aumento nel senso che è finanziato fino a tra tre anni tra tre anni vedremo se chi va in pensione tra tre anni o un giorno si avrà il coraggio di dirgli che quota 100 non la prendono e concludiamo dicendo che appunto stiamo arrivando a quelle che menzionava prima la professoressa Fornero alle sfide del nostro tempo stiamo arrivando siamo in realtà arrivati impreparati abbiamo un cambiamento tecnologico che sta rivoluzionando il modo di lavorare in giro per il mondo abbiamo una transizione demografica in corso e forte particolarmente in Italia abbiamo una competizione internazionale che crea dei problemi c'è evidenza in questo campo e crea anche delle opportunità aggiungo perché mi sono dimenticato mi è venuto in mente importantissimo durante il discorso della professoressa Fornero c'è un processo di maggiore mobilità del lavoro hanno insegnato che il lavoro è un fattore meno mobile almeno del capitale invece il lavoro comincia a muoversi e parecchio ultimamente e c'è un processo di emancipazione di larghe parti della forza lavoro la partecipazione femminile in Italia è ancora al lavoro è ancora ai minimi sicuramente della parte più ricca dell'Unione Europea non so rispetto ai paesi dell'est è bassissimo il tasso di partecipazione nel mercato del lavoro femminile e quindi arriviamo alla risposta la professoressa Fornero giustamente e secondo me la risposta di questo evento è una risposta bellissima ci esorta ad andare casa per casa strada per strada Thomas aggiunge social per social a raccontare il messaggio di questo evento per certi versi che è un titolo che amo particolarmente perché secondo me risponde a quelli che sono i due punti i due problemi del mercato del lavoro liberi e quindi basta queste rendite basta pensare che noi remuneriamo solamente chi arriva e fa touchdown fine dei giochi noi dobbiamo essere in grado di metterci in gioco sempre dall'inizio alla fine e oltre le illusioni non possiamo continuare a pensare di essere i più bravi del mondo solo perché made in Italy ma dobbiamo essere quelli che si sanno far remunerare si sanno mettere d'accordo sanno risolvere i propri problemi di coordinazione per farsi valere come organizzazione come gruppo come paese a questa diciamo battaglia culturale andare a raccontarla in giro come un po' mi sono fatto questo schemino io però non sono convintissimo che siamo in grado di vincere né che siamo tanti né che siamo in grado di vincerla perché come vedeva il grafico in realtà sono 20 anni che ci sono 40 che questi problemi persistono la riforma il sistema attributivo è stato introdotto da rumor negli anni 60 fino agli anni 60 bevi pensione in 73 e in realtà non c'è mai stato un vero movimento per chiamare questo blef questo è un problema politico grosso una sua discussione molto interessante di prima io mi chiedo come facciamo ad andare a spiegare una cosa che in realtà per 40 anni è stato impossibile spiegare non sono neanche così ottimista sulla stensione perché se andiamo a vedere i dati appunto delle elezioni nessuno di nuove generazioni purtroppo in questo caso perché se avessero votato quelli della mia generazione il risultato del 4 marzo questi sono dati Utrend sulle politiche del 4 marzo sarebbe stato peggiore ancora di quello che abbiamo avuto e quindi big question mark che fare? una parziale risposta che mi sono dato in realtà è non limitarsi al raccontare ma mettersi in gioco maggiormente come la professoressa Fornero ha ricordato questo implica dei rischi probabilmente lei li ha anche subiti sulla propria pelle e penso che in questo momento dobbiamo farlo anche un po' tutti noi cominciare forse un cammino da questo evento saper non solo discutere ma saper cercare dei riferimenti distinguere chi sta nelle istituzioni nel posto di lavoro facendo costruendo un paese che va nell'interesse del futuro di noi giovani che va contro quelle che sono state le rendite problemi di coordinazione di 50 anni nella nostra società e chi invece fa completamente il contrario fino adesso non ci siamo riusciti come diceva la slide prima vi chiedo a voi come possiamo imparare a farlo grazie 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 guarda hai tirato in ballo Liberia Oltre Liberia Oltre continuerà soltanto a raccontare se voi volete andare avanti avete supporto di Liberia Oltre per qualsiasi altra iniziativa che sia al di là noi non siamo un partito politico raccontiamo semplicemente le cose così resteremo e posso essere sicurissimo ve lo assicuro al 100% che nessuno di noi ha né tempo né voglia di fare politica assolutamente né voglia né tempo politica partitica 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 no 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 ma mi interessava mi interessava sottolinearlo perché posso dire una cosa Thomas secondo me un grande inizio in realtà io non penso che la politica nel oggi si possa questi cambiamenti si ottengano col partito si può benissimo fare politica facendo rete di reti mettendosi assolutamente infatti dicevo esattamente e questo dobbiamo imparare a farlo secondo me io non ho idea di come farlo devo ancora finire il dottorato quindi a meno due anni fate senza dire tranquilli questo è un d'accordo questo è un d'accordo no no ma perché questo risponde anche a un po' il criticismo che la dottor che il professor Fornero dava a se stessa cioè il gruppo di tecnici che hanno fatto buone cose durante il governo Monti altre meno buone secondo me ci mette un pochettino di pepe come sempre no semplicemente per dire che una cosa calata dall'alto ovvero il problema è che purtroppo l'Italia si è trovata ad affrontare i problemi in una situazione d'emergenza quando succede queste cose purtroppo tocca ai più preparati mettere in mano dei problemi complicati e purtroppo purtroppo ha un gioco facile quelli che l'ha già raccontato la professoressa prima ha un gioco facilissimo quelli che invece giocano al massacro a trovare delle storie semplici con cui controbattere a questi tipi di a questa dinamica quindi secondo me è il lavoro c'era anche io interrompo ma c'era anche da parte di alcuni di noi e forse anche diciamolo del presidente Monti non è una critica perché poi fare politica è una cosa molto diversa io ero il ministro del lavoro quindi voleva dire avere tutti i problemi del lavoro tutti i problemi della disabilità la previdenza e delle pari opportunità io non avevo mai occasioni diciamo così gioiose sono occasioni drammatiche o quasi drammatiche e io ricordo perché insomma non sono mai stata iscritta a un partito ma credo di essere e credo di poterlo dire con grande sincerità una persona che ha sensibilità sociale io in qualche occasione ho detto noi stiamo perdendo il paese perché tu non puoi fare le riforme in senso tecnico e pensare che funzionino le riforme tanto non nascono mai perfette nessuna riforma lo è prendiamo quella del lavoro del governo Schröder io ho personalmente sentito Angela Merkel dire noi siamo stati fortunati ad avere un governo che prima di noi ha affrontato le riforme le ha monitorate le ha cambiate ci ha messo tre anni a fare le riforme ARTS ed è un processo e quando lei è arrivata lì non ha cominciato a dire quelli di prima che schifo no lei ha detto noi dobbiamo ringraziare poi correggiamo poi facciamo questa esigenza di continuità nei percorsi di riforma i nostri governi non ce l'hanno ma neanche Renzi perché anche Renzi è stato bisognava cambiare rottamare buttare via innovare tutto e però ti sfracelli anche e quindi c'è tanto da costruire ma io credo questo lo dico in maniera molto semplificata e me ne scuso perché io credo che i nostri sistemi economici abbiano una capacità di risoluzione dei loro problemi lenta faticosa che comporta degli errori delle sofferenze oggi il nostro problema è il funzionamento della democrazia perché i cambiamenti in democrazia avvengono coinvolgendo le persone non abbiamo più una democrazia rappresentativa che funziona i corpi intermedi non sono riconosciuti con non sono più riconosciuti come rappresentativi oggi so che c'è una manifestazione in Calabria mi pare del sindacato però e quindi le persone partecipano le persone prendono quello che si dice loro quindi il percorso lì è da costruire perché noi non riusciremo mai a fare le riforme in modo tecnocratico se non sull'orlo di un abisso che però nessuno si augura di nuovo basta già dato e questo vuol dire non dato personalmente dato il paese già dato cioè questi sono anche processi di sofferenza collettiva io ho visto in Grecia di sofferenza collettiva che bisogna evitare noi se continuiamo così possiamo continuare il nostro declino se non se evitiamo il baratro con politiche quali quelle sono state predisposte da questo governo noi continuiamo il nostro declino e il modo per evitare il declino è fare che la società sia consapevole consapevole della complessità dei problemi e abbia voglia di mettere in discussione ogni slogan che viene propinato ogni momento dal ministro di turno anzi quindi abbiamo uno solo ormai e quindi devono essere deve essere il popolo che si ribella ma il popolo si ribella quando è un po' più consapevole questo non vuol dire che basta ma vuol dire che senza questo il resto non funziona e la tecnocrazia non funziona la visione illuminata da establishment non funziona e quindi noi rischiamo molto perciò bisogna coinvolgere i cittadini ma è un percorso non facile e neanche breve ma devo dire che questa sera sono d'accordo su veramente tutto quello che dice Elsa d'altronde è stata lei ad assumermi quindi forse anche per quello ed è vero e trovo molto importante un evento come questo quindi vorrei anche ringraziare il gruppo che ha messo in piedi questa cosa incredibile ricorda un po' anche l'evento del festival dell'economia di Tito Boeri un altro evento incredibile l'unica è discutere informare analizzare sporcarsi le mani aprire il computer far girare i dati perché poi accade quello che è accaduto quando io mi sono messo a giochicchiare con la formuletta del reddito di cittadinanza e mi sono accorto che c'erano delle aliquote marginali superiori al 100% mi sono poi dimenticato di raccontare che ero in contatto con una persona all'interno dell'Inps che ha informato i politici e quindi hanno aggiustato tra virgolette quella formuletta però ecco questo forse da parte nostra serve sporcarsi un po' più le mani quindi non pensare solamente a pubblicare nelle migliori riviste girare per il mondo a presentare i propri lavori ma ogni tanto venire qui a farsi coraggio e lavorare per qualcosa che lo si fa gratis grazie grazie io magari adesso coinvolgerei un po' il pubblico se è possibile se qualcuno ha una domanda vediamo faccio la balletta e vado in giro però non è carina questa battuta che ha fatto no è che è sotterraneo poi emerge nelle situazioni più inaspettate qualche volta è sfacciato ma questo era la mia domanda è direttamente alla professoressa Fornero e volevo fare questa considerazione e chiedere a lei appunto tolto il sottoscritto che evidentemente abbassa in maniera significativa la media dell'età di questa sala come lei si pone di fronte a una sala che è così strabocchevole di giovani aperta parentesi io li ringrazio personalmente chiusa parentesi che sono la vera forza che può avere un paese quindi la vera forza che abbiamo noi anche di poter diciamo invertire la marcia perché lo possiamo fare solo attraverso di loro come lei vede un'assemblea popolata di così tanti giovani che vengono ad ascoltare lei che dice anche delle cose difficili a volte grazie ah io la vedo come una sferzata di energia qualche volta qualcuno mi dice come è che tu hai ancora tanta energia racconto una battuta una volta io dissi un collega inglese dissi you know with my age e lui mi ha detto don't say age say seniority un'altra volta io allora ho detto questa volta il collega era tedesco Axel e allora ho detto well you know Axel with my seniority e lui mi ha detto don't say seniority say experience allora io posso dirvi posso dirvi che io ho l'età la seniority e anche l'esperienza quindi io sono una persona non mi piace dire anziana però di età ci sono però io amo la vita e la vita sono i giovani e per me la capacità di riuscire a dialogare con i giovani voi siete qui e mi esprimete affetto e di questo vi sono anche molto grata anche perché esprimete energie positive ce ne sono anche molti che votano Salvini che mi dicono delle cose orrende delle cose orrende io parlo anche con loro o cerco di parlare perché vedete essere salviniani vuol dire essere anche un po' vigliacchi non accettano mai il dialogo non lo accettano non lo accettano in primo luogo perché non sanno cosa dire in secondo luogo perché adesso non usiamo termini ma qualche pulsione di tipo fascistoide ecco possiamo usare questo termine ce l'hanno dentro il dialogo non appartiene a questa incultura allora e vedere dei giovani così uno dice beh io posso ancora sperare io ho cinque nipoti è stato anche difficile in questi anni qualche volta spiegare loro manifesti in giro per Torino dove sapendo leggere i più grandi vedevano il nome della nonna che si doveva vergognare non è stato facile però io credo che abbiano capito in ogni caso questi giovani che sono l'altra parte allora noi dobbiamo cercare di tirarli dentro di farli perché quelli che esprimono l'incultura di Casa Pound beh ricordiamoci tutti che c'è stato un giovane che gli ha detto tu non mi rappresenti questi hanno diritto di stare lì se gli è stata assegnata la casa e l'ha fatto un giovane e questo è la nostra speranza e quindi voi siete tutti quelli che lo sono perché qualcuno con i capelli bianchi lo vedo anche qua i miei sono tinti un po' ma comunque il punto è che è questo e allora dobbiamo anche fare in modo che non vadano tutti fuori perché se vanno fuori tutti quelli e quelli che invece rimangono qui sono quelli che o sperano nel reddito e cittadinanza oppure sperano in una in uno stato forte che mette tutti in riga e che protegge il noi a scapito degli altri beh questo ci deve far paura questa incultura ci deve veramente preoccupare non far paura ma preoccupare quindi grazie perché siete qui e tanti posso complicare un pochettino la domanda da da expat abbiamo con Tortuga fatto un piccolo report in cui cercamo di capire questo fenomeno del brain drain e una delle ragioni più comuni per cui si fa all'estero è che lì si viene messi alla prova lì si viene messi in grado di avere responsabilità lì si impara di più perché in Italia questa struttura della forza lavoro è così gerontocratica per certi versi ma a tutti i livelli per certe aziende come istituzioni come ambiti io non amo le contraposizioni credo che uno dei problemi sia noi contro loro sempre in Italia c'è sempre nord contro sud uomini contro donne giovani contro anziani io credo che ci voglia ho fatto il ministro dei pari opportunità e non essendo un tema nel quale ero particolarmente ferrata come economista di formazione mi sono detta come devo comportarmi io e mi sono ricordata di una cosa che è un insegnamento fondamentale queste sono le cose che ti restano se le hai da bambino che è il rispetto c'erano cose che nel mio paese io non capivo vedevo che c'erano comportamenti di derisione però i miei genitori mi insegnavano che invece bisogna rispettare e questo è fondamentale allora la contrapposizione per me è uno dei veleni in questo paese e le aggiungo un'altra cosa scusate ma ieri io ho conosciuto una persona straordinaria a Sondrio è una restauratrice la restauratrice che ha restaurato il cenacolo di Leonardo si chiama Pinin Brambilla poi c'è un altro cognome che non conosco una donna di 93 anni che ieri ha tenuto una conferenza a Sondrio io ero lì per una mia ci siamo poi incontrate e tra le tante cose che mi ha detto mi ha detto una cosa che mi ha molto ferita ma non perché riguarda me mi ha detto che lei cammina per me vive a Milano cammina con un bastone perché la aiuta a tenere l'equilibrio adesso ci sono anche gli scooter sui marciapiedi non solo le biciclette il bastone l'aiuta all'equilibrio ma non ne ha sostanzialmente bisogno e che non più di pochi giorni fa ha inavvertitamente o è stata lei a toccare un'altra signora o quell'altra un po' sbilanciata ma non è caduta e siccome ha visto che non è caduta l'altra signora giovane ben vestita l'ha guardata in faccia e le ha detto brutta vecchiaccia e lei ci è rimasta male e io ci sono rimasta male con lei e dico ma questo è un paese in cui una donna chiaramente non era insomma una donna con istruzione probabilmente sicuramente e ti permette di dire brutta vecchiaccia a una signora che ha 93 anni e che ha fatto il restauro lei non poteva saperlo però questa signora Pinimbrambilla sapete perché mi ha colpita per la grandissima dignità si può essere molto anziani e avere grandissima dignità si può essere molto giovani e non averne alcuna quelli ecco di cui parlavamo prima di dignità non ne hanno proprio benissimo allora a me non piace la contrapposizione però la domanda sua era molto precisa e la risposta è un male tradizionale del nostro paese che è che nel nostro paese la meritocrazia non fa ancora non ha fatto non ha ancora il posto che dovrebbe avere la meritocrazia vuol dire non dare promozioni per età o seniority ma dare promozioni sulla base del merito non ragionare per quote anche se difendo il 30% del terzo delle donne lo difendo perché ogni tanto ci vuole uno scossone tra l'altro è a difesa di entrambi i generi quindi la risposta è molto semplice ed è e sono le rendite di posizione alle quali si faceva riferimento prima se tu sei lì e poi c'è un'altra cosa guardate io vengo da Torino Torino è una città che oggi ha molti problemi e secondo me è una città che ha vorrei dire un profondo senso democratico quando io sono andata a Roma dove alcune persone mi trattavano con l'area di dire guarda questa qui arriva da Torino ma non conosce niente dell'ambiente romano ed era abbastanza vero bene io ho avuto la netta percezione potrei raccontarvi alcuni episodi di quelle che possiamo chiamare strutture opache di potere purtroppo ne abbiamo evidenza drammaticamente in questi giorni anche in un ambiente dove le strutture opache di potere fanno a pugni con la missione che è tipica sto parlando della magistratura ebbene io ho avuto la netta sensazione di queste strutture opache di potere le strutture opache di potere sono quelle che dicono chi mettiamo là e di solito scelgono una persona del loro giro del loro circolo io ho fatto delle nomine ho fatto delle nomine vi posso assicurare posso aver scelto le persone giuste o sbagliate non lo so ma ho sempre cercato di fare delle nomine rispettando dei criteri di competenza di capacità di innovazione di indipendenza perché se tu devi scegliere qualcuno vuoi anche che sia indipendente non sia un servo tantomeno un servo sciocco e però questo è il problema parliamo di riforme tu fai la riforma ma poi i comportamenti sono questi e la riforma ti sta lì e non passa quasi niente nella società e non cambia non riesce a cambiare quasi niente aggiungo una cosa tu prima dicevi il lavoro voi non avete forse neanche idea di quanto io abbia cercato di lavorare per l'apprendistato e io ho voluto fare non è una mia invenzione il saccone aveva già fatto delle cose però l'ho rafforzato secondo me l'apprendistato doveva diventare il canale principale di ingresso nel mondo del lavoro è stato seguito questo percorso guardate che era buono ho visto anche un articolo recente con tanto di econometria anzi nel cuore che studiando proprio quella riforma dimostra che l'apprendistato ha avuto successo nella stabilizzazione però devi far capire ai datori di lavoro che l'apprendistato non è solo un mezzo per ridurre il costo del lavoro ma è anche un mezzo per aumentare la produttività del lavoro creando una maggiore facilità di inserimento del lavoratore dentro imprese ecco queste sono le cose ma qui per passare questo e per passare dal disegno delle riforme che voi all'Ox siete bravissimi a fare alla implementazione realizzazione delle riforme che già è un processo politicamente difficile ma quando devi farle vivere nella società che è il modo in cui a me piace descrivere le riforme ce ne corre quindi tu le puoi fare ma poi restano lì e quindi voi giovani in questo siete meno potenti contate elettoralmente meno è chiaro un denominatore comune delle politiche di questo governo a me pare sia l'attenzione verso le generazioni più anziane meno giovani grazie grazie per quello che avete fatto intanto col canale allora noi viviamo in un mondo complesso e quindi ovviamente le risposte sono complesse ora ma questo è normale penso io ho un telefonino in tasca che non so come è fatto però quando mi viene venduto è una scatola bianca senza istruzioni e mi dicono che fa delle foto che poi i tuoi amici vedono che belle vacanze fai ecco però non so niente di come è fatto ho seguito tutto il giorno e anche ad esempio il dibattito in precedenza quando c'era mercato ed economia ma anche su queste tematiche mi sembra che diciamo quello che c'è da fare sia abbastanza chiaro però è lo spiegare che lo rendiamo difficile e allora perché non trovare degli slogan efficaci ci manca probabilmente una comunicazione no perché e quindi perché non trovare degli slogan efficaci che in 15 secondi mettendo un po' da parte quelle che sono diciamo e io per primo le relatività che spiegano la cosa complessa e quindi mettiamo un po' da parte quelle sono le caratteristiche che rendono complessa una cosa ma andiamo al significato che ci interessa troviamo lo slogan adatto come poi è adatto l'efficacia della comunicazione populista che riesce a dare delle comunicazioni secche che non ti dà modo perché ti riempiono diciamo la risposta completa magari è sbagliata ma è già una risposta a un tema una risposta semplice ed errata ad un tema complesso allora diamo una risposta semplice che sia però corretta ecco questo è una sfida lo so il canale e tutta l'attività che facciamo me compreso nel mio piccolo cerchio di amici però trovo veramente difficoltà a trovare persone che ti ascoltano per più di 30 secondi e poi basta sei troppo complicato ecco questo dico una cosa io brevemente poi passo io ho molto insistito nella nella mia partecipazione a trasmissioni televisive sulla adesso dico il termine sulla possibilità di avere un minimo di contenuto pedagogico perché se tu stai ed è faticosissimo in televisione faticosissimo e però io dico guardi voi mi invitate mi invitano in tanti se io vedo le condizioni per esprimere un concetto nella maniera più chiara possibile partecipo altrimenti mi dicono grazie perché se gli dici no in modo cattivo poi ti massacrano in trasmissione e quindi non mi secchi tipo queste cose mai grazie no è faticoso però le posso assicurare perché posso farle vedere tutti i messaggi che ho nel cellulare posso assicurarle che c'è un pubblico per queste cose qui lo vogliono e quindi vuol dire che forse va anche bene lo slogan però secondo me lo slogan è pericoloso perché allora noi rischiamo di andare sul terreno dei populisti e di perdere e per questo che io grazie Salvini non lo voglio incontrare perché lui a fare gli slogan è molto più bravo di me e io mi metto lì a fare la spiegazione cina non funziona quindi facciamo anche capire che lo slogan non è la soluzione dei problemi non è che mando in pensione uno e ne trovo tre adesso dimmelo dove sono i tre io ti dico che sostituire un lavoratore mandare via un lavoratore per sostituirlo con un altro è una ricetta primo troppo facile perché io vorrei che tu trovassi il lavoro a quello che entra senza mandarne via un altro e poi è anche perdente dal punto di vista della collettività perché che esca il padre per far entrare il figlio alla fine non è un gran guadagno né per la famiglia né per la collettività questo le persone lo capiscono è che bisogna provare a invertire anche qualcosa non solo ad ad accomodarci io lo dico uno dei problemi della politica secondo me di nuovo è un rimprovero che faccio al partito democratico non perché sia il mio partito ma perché in questo momento non ne vedo altri che possa voler votare più Europa sicuramente so che insomma quell'area lì benissimo il partito democratico ha avuto mancanza di coraggio perché si è un po' accodato e il suo rischio è che torni a farlo allora perderà di nuovo bisogna anche elevare il dibattito facendolo con un discorso molto piano molto semplice ma se non tiri sul dibattito alla fine andiamo tutti più in giù dove scusate ma vi sembra normale un paese dove un presidente del consiglio dialoga con uno in mutande e il giorno dopo il ministro degli interni va in mutande sulla terrazza per farsi fotografare e dire anch'io ho le mutande ma insomma ma questo basta ma questo dobbiamo dire che non ci piace diciamolo ci piace no non ci piace non vogliamo un paese dove i ministri vanno a esibire le loro mutande e basta esibiscano un po' di intelligenza no volevo rispondere soltanto a nome mio e di tutta l'organizzazione di questo evento sugli slogan su che cosa bisogna fare guarda allora la discussione è molto complicata cioè lo slogan serve certamente noi stiamo cercando di fare una cosa abbastanza strutturata multicanale nel senso per gli slogan abbiamo twitter per i discorsi complicati abbiamo youtube stiamo cercando di utilizzare altri canali per insomma stiamo cercando di fare una cosa che faccia passare complessità utilizzando anche metodi semplici per sintetizzarla e attrarla l'attenzione di chi vuole essere comunque un pochettino provocato a livello intellettuale perché lo slogan di per sé slogan in se stesso va bene per chi comunque non mette in gioco la sua intelligenza su problemi che comunque sono complesse quindi lo slogan di sé per sé come diceva la professoressa Elsa Fornero secondo me è controproducente controproducente voglio dare anche una nota di ottimismo da parte mia perché come ha ricordato la professoressa prima Salvini adesso è al governo i populisti sono al governo quindi sarà anche più facile mostrare il fatto che sono incoerenti rispetto alle loro promesse la staffetta generazionale 1 a 3 se non funziona non funziona nei fatti quindi voglio dire possono fare molta propaganda però a un certo momento il principio di realtà vale quasi sempre quindi speriamo noi possiamo metterci soltanto impegno personale lo stiamo mettendo grazie anche al supporto vostro onestamente quindi continueremo a farlo cercando appunto i metodi più semplici per far passare comunque messaggi abbastanza complessi sì sì ancora due domande magari poi finiamo pronto la domanda che volevo fare io riguardava anche l'impatto sul tema della produttività e su quello che diciamo è la stasi del nostro paese dell'enorme presenza di micro imprese e anche del fatto che il governo con i provvedimenti anche l'ultimo ma tutti quanti in qualche modo spingono al nanismo imprenditoriale abbiamo il 96% di imprese che sono sotto i 10 dipendenti diventa difficile creare occasioni per i giovani in strutture che sono piccole e che molto spesso vivono anche grazie al fatto che lo stipendio venga pagato in minima parte non esiste una gerarchia quindi non esiste neanche il tema della carriera se e in quale modo eventualmente è possibile trovare delle soluzioni che significa anche a volte come dice il professor Boldrini decimare senza per questo farsi voler bene un po' dalle persone rispondo io anche se non è proprio la mia ricerca questo governo in qualche modo a me sembra sempre in cerca ma anche qualche governo precedente sempre in cerca delle scorciatoie e quindi sempre c'è questo tentativo di rattoppare invece di riformare e in qualche modo non affrontare i grandi problemi dal punto di vista mediatico aiuta perché dire alle persone guardate che dovete fare delle riforme guardate che nel senso piccole imprese potrebbero chiudere a favore di imprese più grandi imprese quindi anche se vogliamo più trasparenti imprese che fanno determinati contratti di lavoro è un messaggio che in questo momento forse ancora non paga e che però bisognerebbe in qualche modo mettere in primo piano posso e vabbè io ho ascoltato con molto interesse e trovo veramente affascinante questa sfida di dover raccontare la complessità e non piegarsi al dover raccontare degli slogan sto studiando ultimamente un fenomeno che in realtà esiste da diversi decenni in giro per il mondo che è quello della democrazia aleatoria che qui viene visto giusto con una bestemmia perché l'unico che ne parla ogni tanto è Grillo con qualche sparata sul sorteggio abbastanza scriteriata in realtà non si tratta di sorteggiare dei cittadini a caso per prendere decisioni complesse ma di renderli parte di un processo decisionale di confrontarli appunto con la complessità dei problemi e quindi non parliamo di cittadini come oggi che sono in qualche modo già autoselezionati abbiamo più o meno tutti idee politiche simili magari forza estrazione sociale simili ma di un campione che sia quanto più rappresentativo della società tanto è vero che oggi Macron sta proponendo un'assemblea cittadina sul cambiamento climatico attraverso il metodo del sorteggio insomma è un metodo che si sta cominciando a sperimentare un po' in quel mondo io sono convinto che se per esempio si facesse una cosa del genere una citizenasse diciamo così sulla riforma previdenziale in Italia potrebbe essere una proposta interessante anche per riuscire a far capire questo messaggio insomma di una riforma complessa e difficile non traducibile con slogan è una suggestione è una suggestione non ci deve spaventare io personalmente per diciamo tutta la mia formazione siccome io credo nella formazione e credo nelle specializzazioni e io credo anche che l'elezione di rappresentanti sia il percorso più maturo più completo poi sì possiamo anche estrarre a sorte qualcuno dice anche i rappresentanti dei giudici nel CSM nell'associazione nazionale possa essere un metodo e anche lì ci sono pro e contro non dobbiamo spaventarci di queste nuove forme di partecipazione però io penso che oggi noi abbiamo ancora bisogno soprattutto vista la se posso dirlo il livello medio di livello di ignoranza diffusa e allora è già è molto difficile affrontare i problemi quando si conosce qualcosa po' più o meno di un problema ma se si ignoranti si fa la cosa giusta proprio solo per caso quindi lì l'aleatorietà si sposta anche alla soluzione dei problemi si possono fare molti disastri quindi dico che lei fa benissimo a studiarlo che probabilmente in futuro sarà più diffuso ma oggi come oggi è bene ancora che ci teniamo la democrazia rappresentativa come base per il nostro processo decisionale e di governo collettivo consultivo va benissimo oggi tanto si consulta tutto tutti sono consultati su tutto quindi è una gran confusione di consultazioni mi sembra questo è buonasera posso fare una domanda velocissima sì sì velocissima allora noi ci siamo detti delle cose bellissime stasera durante tutta questa giornata però siamo 500-600 persone che più o meno pensano tutti allo stesso modo un modo molto vicino cioè abbiamo un approccio globalizzazione capitalismo mercato libertà eccetera però la realtà solidarietà anche solidarietà però che si monica chiaramente con lo sviluppo però fuori abbiamo una realtà molto diversa molto diversa e la percezione che si ha quando si va sulla strada è completamente diversa da quella che c'è qui dentro e questo è un paese che ha due anomalie gigantesche che sono la scarsa capacità di leggere i fenomeni economici e la divergenza mostruosa che c'è tra le due macro aree del paese secondo voi quale di questi due è il problema principale da aggredire perché se lasciamo indietro il sud e continuiamo a lasciarlo indietro probabilmente non si crea mai quell'area di consenso che è necessaria per implementare quelle riforme che lei professoressa ha menzionato e sembra quasi che all'Italia per svegliarsi purtroppo serva soltanto una macro recessione che poi dopo porta dei danni irreversibili noi abbiamo avuto un percorso di relativa convergenza tra il sud e il nord del paese questo percorso di relativa convergenza è stato interrotto e si è di nuovo aperta la forbice se posso dire con l'avvento del berlusconismo e dell'incapacità di perché il berlusconismo era già populismo e il berlusconismo ha incoraggiato partecipazione in politica di persone che avevano uno scarso senso perché allora scusatemi io ero in Sicilia la scorsa settimana ho visto delle cose bellissime e anche gente desiderosa di comprendere ma quando la Sicilia elegge in Parlamento soltanto esponenti di un partito e poi alla prossima occasione tutti dall'altra parte e lì c'è un problema grave e questo problema grave è stato si è tradotto in politiche sapete parlavamo prima di formazione ma sapete quanti fiumi di risorse sono stati sprecati nella non formazione di giovani o meno giovani persone che hanno perduto sapete quante telefonate io ho ricevuto dal sindaco di Palermo che peraltro sta facendo bene adesso dal governatore che non ha fatto bene quello di prima che adesso è in crocetta ecco che mi diceva ministro se lei non ci dà una cassa integrazione inderoga straordinaria io ho gente che si butta ma non bisogna lasciare che la gente salga sui tetti per buttarsi se non gli dai la cassa integrazione non può essere un metodo allora quando tu fai capire che per avere qualcosa adesso avranno il re di cittadinanza ma se tu fai capire che per avere qualcosa deve andare sui tetti in tanti minacciare di buttarti giù non è quello quindi noi abbiamo avuto delle politiche che hanno veramente sprecato quello è una cosa bisogna recuperarla non ci sono poi delle aree di positività e di anche di costruzione del futuro nel meridione bisogna lavorare su quelle e allargare quelle però la strada è lunga e la seconda la seconda parte io credo che debbano andare insieme io mi sto occupando molto di si chiama educazione finanziaria financial literacy io preferisco chiamarla educazione economico finanziaria perché ci metto anche l'economia non mi piace che si pensi che sia solo una cosa e in Italia l'educazione finanziaria crea sempre un po' di rigetto perché si allora suona male a me piace dire educazione economico finanziaria perché è una cosa io ritengo allora all'inizio del novecento si è stabilito la alfabetizzazione come programma che doveva valere per tutti e che doveva valere per la crescita del paese bisognava saper leggere scrivere e fare due conti ebbene io credo che oggi questo debba integrare anche una base di economia elementare che non serve solo alle persone per evitare dei grandi rischi di scelte sbagliate nel loro ciclo di vita ma serve anche alla società per far capire proprio le riforme i processi di aggiustamento rispetto a shock i processi di cambiamento rispetto a mutamenti strutturali che ci coinvolgono quindi questo si può fare ci siamo anche noi come paese dotati di una strategia nazionale un tema che all'Ocse sta molto a cuore molti paesi stanno prendendo molto seriamente questo tema in termini di politiche si può parlare di introdurre un po' di educazione finanziaria economico finanziaria di base nelle scuole questo si può fare e questo è una riforma dicevamo non è a costo zero alcuni sono contrarissimi anche questo quindi non è a costo zero ma i costi qui sono limitati divario nord sud richiede tempi più lunghi e cambiamenti di mentalità di nuovo ringraziamo tutti ringraziamo tutti possiamo finire qui ringraziamo forse c'è ancora una no credo che finia no abbiamo tempi una velocissima velocissima dal ragazzo ho capito quasi subito che l'importanza dell'economia in politica è la gestione di uno stato e siccome non ci capivo niente ho detto delego e voto gli altri poi a un certo punto era ancora abbastanza giovane ho capito che nemmeno quelli che delegavo ci capivano qualcosa in economia e ho cominciato a studiarla e quindi la mia domanda è sì ci vuole l'educazione economica finanziaria ma abbiamo avuto delle elite nel corso dei decenni in Italia che sono stati deficitarie a volte a sommo scopo ma spesso proprio non avevano l'elite non il popolo fatemi rispondere a me in maniera molto polemica anche le elite economiche di questo paese hanno scharsa conoscenza economica vediamo tutti i giorni nei giornali li vediamo tutti i giorni nelle televisioni non li nomino nemmeno perché non li voglio nominare li conoscono tutti bene aggiungo nel senso in questo hotel probabilmente ci sono forse dieci volte le menti economiche di quelle che ci sono al governo quindi anche lì ce n'è di strada anche di più ce n'è di strada da fare grazie mille grazie mille ci vediamo alla festa per chi ha preso i biglietti della festa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti